Giornata di sopraluoghi da parte dei carabinieri della stazione di Gandino che stanno cercando di capire i motivi che hanno spinto i ladri ad accanirsi compiendo nove furti in Val Gandino nella nottata tra lunedì e martedì. Tra questi tre abitazioni via Bonarotti a Leffe con le vittime al suo interno. Utilizzando la tecnica del forellino i ladri impossessatisi di monili in oro guadagnavano la via di fuga abbandonando parte della refurtiva nei giardini posti nelle vicinanze delle abitazioni. Prese di mira le aziende del gruppo Radici. Nelle attenzioni dei malviventi la radici partecipazioni di Gandino in via Cantonelli in via Ugo Foscolo, la tessitura Pietro Radici in via Foscolo sempre a Gandino, il tappetificio Radici di Cazzano Sant'Andrea e le abitazioni degli imprenditori Ferruccio e Luigi Zambaiti di Leffe da una delle quali veniva prelevata una Mercedes utilizzata per la fuga. Sul posto veniva individuata la Fiat Panda rubata a Leffe utilizzata per il colpo. L'intrusione all'interno della radici partecipazioni è stata possibile dopo che i malviventi, messo fuori uso l'impianto d'allarme ripartito una volta all'interno, erano costretti alla fuga visto il sopraggiungere delle forze dell'ordine. Dei primi accertamenti sembra essere inconsistente l'ammontare della refurtiva. Questa mattina gli impiegati del tappetificio Radici non sono potuti entrare nello stabilimento e sono rimasti fuori fino al termine dei rilievi effettuati dai carabinieri che oltre a visionare i filmati dalla videosorveglianza invitano chi avesse notato particolari sospetti a segnalarlo alla stazione di Gandino.